Buongiorno, oggi si parlerà di geografia e anarchia, un titolo sicuramente curioso se non si pensa all'Ottocento, secolo nel quale le scienze, per lo più matematiche e fisiche, si differenziano e si sviluppano, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, quando parallelamente alle scoperte scientifiche si presentano problemi sociali legati al lavoro nelle fabbriche. Nascono infatti a fine Ottocento i partiti socialisti e i sindacati, dopo le rivoluzioni del Quarantotto e la comune di Parigi del 71-1871. In questo contesto operano gli anarchici, due dei quali verranno celebrati e descritti oggi. Socialismo e libertà, emancipazione umana, sono i temi centrali dell'anarchia. Il tema di oggi è centrato su rivoluzione e evoluzione. L'interpretazione corretta del darwinismo biologico e sociale per una società solidaristica, egualitaria, presente sia nel mondo animale che nella società umana. In questa evoluzione un ruolo essenziale è portato dalla scienza, quella scienza che nell'Ottocento cresce. Se ci pensate il campo magnetico di Maxwell è alla fine dell'Ottocento, Koch scopre i batteri patogeni alla fine dell'Ottocento, Darwin pubblica l'origine delle specie alla fine dell'Ottocento, la chimica di Mendeleev è nel 1860 circa. Prima era stragoneria. Non solo, inizia anche la chirurgia, con le anestesie si può operare. E poi alla fine dell'Ottocento, il famoso 1895, quando Röntgen trova i raggi che, non conoscendone, non riuscendo a capirne l'origine, li chiama X. Poi l'anno dopo Becker e la radioattività naturale. Nell'1895 si sposano Maria Sklodowska e Pierre Curie, che poi useranno l'Uranio, la Pegblenda di Yakimov, nella Repubblica attuale cieca, il giacimento dove lavorò anche il padre di Martín Lutero, un giacimento importante dove c'è molto argento, ma anche la Pegblenda di Marie Curie. La geografia, adesso lascio perdere perché l'elenco è infinito, quindi è meglio smettere. La geografia che ha consentito, purtroppo, l'espansione del colonialismo può essere rivoluzionaria secondo Reclue e Kropotkin. Una geografia senza confini di state, stato grazie al progredire della scienza. Si insiste molto sulla scienza tra gli anarchici dell'Ottocento. Una scienza legata anche all'illuminismo. Poi, senz'altro, Federico Ferretti e Selva Varengo approfondiranno. Parleranno oggi Marco Piras, professore ordinario di topografia e cartografia presso il Politecnico di Torino, vice direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, autore di numerose pubblicazioni in ambito geomatico, collaborano con il Polo del Novecento e l'Ampia, di cui è socio da alcuni anni. L'ultima conferenza di poco tempo fa fu su Darwin, celebrammo Darwin, insieme al Politecnico di Torino. Parteciperà, farà breve, alla conferenza Flower Power, il potere delle piante, organizzata in collaborazione con il Polo del Novecento. Federico Ferretti, attualmente professore di geografia presso il College di Dublino, ha prodotto numerosi testi affrontando la geografia anche sul terreno del colonialismo e dello sfruttamento incontrollato delle risorse ambientali a spese delle popolazioni più povere. Selva Varengo, nota nell'ambiente anarchico di Milano, ricercatrice all'Università di Milano, ha prodotto numerose pubblicazioni sulla storia di anarchici. Molto interessante, la rivoluzione ecologica, il pensiero libertario di Murray Bookchin. Ha approfondito la figura mitica del principe anarchico, così veniva definito Piotr Krapotkin, di cui parlerà oggi. Io mi rivolgo ancora, prima di dare la parola al professor Marco Piras, ricordo agli studenti del Politecnico che spero seguono questa conferenza. Alla fine della conferenza, dopo l'ultimo intervento di Selva Varengo, verrà messo in chat il link per la loro registrazione, per garantire la loro partecipazione. Allora io do la parola a Marco Piras, che ci parlerà soprattutto di topografia, e vedremo la parte più scientifica o tecnica, tecnico-scientifica, della conferenza. A te Marco Piras. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per la presentazione, dell'introduzione. Spero che le aspettative non siano troppo alte, insomma, sicuramente chi mi succederà racconterà cose anche più interessanti. Allora, ho preparato una presentazione che vado subito a condividere. Innanzitutto, permettetemi di indossare il cappello da vice direttore per ringraziare l'Ampia, il Polo del Novecento, per questa iniziativa. Come citava prima Boris Bellone, e da tanto che collaboriamo, quindi abbiamo questa tradizione, che sicuramente è una tradizione molto positiva, quindi ringrazio molto per il coinvolgimento e per queste iniziative. Cambio cappello e metto adesso il cappello da oratore d'invito. E parto da questa bellissima carta, direi un'opera d'arte. A rivedere queste carte storiche, io rimango sempre a bocca aperta e dedicherei quasi tutto il mio tempo soltanto a commentare, a descrivere queste opere. Questa è un'opera, una carta del 1875, della parte est della Siberia. Questa è un'altra carta e parto da qui perché, insomma, questo è quello che noi abbiamo ottenuto, abbiamo ricevuto in eredità. Oggi diamo ai nostri figli questi prodotti digitali che rappresentano un po' il nostro pianeta, il nostro territorio, la geografia. Questa è un pensiero, qualcosa su cosa stiamo dando e cosa stiamo concedendo come eredità andrebbe fatto, ma lo faremo alla fine di questa presentazione. Ecco, parto da questo articolo interessante, uscito poco tempo fa sul post, sulla difficoltà di a volte definire dei confini tra paesi, quindi delimitare o dare delle definizioni più geografiche a questioni che a volte non sono geografiche ma sono di geopolitica. Perché ovviamente quando uno descrive qualcosa e fa una carta cerca sempre di, in qualche maniera, descrivere quello che è il territorio, senza però a volte considerare quello che c'è sul territorio, cioè dal punto di vista di chi lo abita il territorio e quali sono anche le condizioni politiche che gestiscono quei territori. Quindi su questi due punti, cosa lasceremo in eredità e su come è difficile a volte disegnare una riga, una linea sulla, su una carta, cercheremo poi di trarre delle conclusioni alla fine. Beh, che cos'è la cartografia e che cos'è una carta? Beh, sicuramente ci sono tantissimi metodi e modi di rappresentare il nostro territorio e descrivere la, 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 diciamo la sua, la sua, la sua forma e i suoi contenuti. Vedete qui qualche rappresentazione, puramente un esempio. Partirei, parto da anche da cose simpatiche che ci sono nella cartografia. A volte siamo così tanto zelanti che nella cartografia andiamo anche a rappresentare dei luoghi fantasma e la questione è sempre che se questo luogo esiste in cartografia per forza di cose deve esistere anche realmente. Vi rappresento due casi molto interessanti. Uno è una località nel Regno Unito, vedete questo puntino, che casualmente c'è nella cartografia, nel Google Maps, quindi strumenti molto molto popolari, diffusi, ma che in realtà non esiste, non esiste assolutamente. E questo però, col fatto che esiste nella cartografia digitale, viene poi considerata per esempio per i navigatori o altri strumenti che oggi tutti noi utilizziamo. Un'altra casa di quelli che si chiamano Paper Town, cioè città soltanto sulla carta, è questo altro caso, un villaggio di Anglo, nello stato di New York, che è presente nelle carte, qui sono carte stradali degli anni 30, ma che in realtà non esiste. E quindi però, col fatto che è presente nelle cartografie, in qualche maniera diventa un qualcosa di reale. Questo perché? Perché spesso la cartografia, o le carte che noi vediamo, vengono lette come un qualcosa che traduce in maniera molto fedele la realtà. In realtà, vedremo tra poco, la cartografia è nient'altro che una descrizione e una rappresentazione utilizzando dei simboli, dei segni, delle convenzioni. E con questo, ovviamente, si porta dietro delle semplificazioni, anche delle, in qualche maniera, delle deformazioni che poi dobbiamo tener conto. Beh, non la faccio lunga, sono partito dal 2500 avanti Cristo, ma solo per dire che da sempre l'uomo ha avuto e si è posto il problema di rappresentare il mondo e ciò che gli circonda. Per varie nature, qui qualche rappresentazione dalla più antica, del 2500 avanti Cristo, forse addirittura ci sono anche delle, insomma, delle carte anche più antiche, del 6200 avanti Cristo. Per venire, insomma, un po' più avanti nel tempo, mi piace citare il papiro di Torino, per esempio, via via, se ne possono citare altri esempi. Sempre, qual è stato lo scopo? Cercare di rappresentare lo spazio e quello che ci circonda. Già con primo concetto di come è fatto lo spazio, di capire di come è fatta, di qual era la forma giusta da dare alla Terra. Massimandro pensò la Terra come un sasso galleggiante nello spazio e via via, fino a che iniziarono a evolversi anche i modi di rappresentazione, ma sicuramente la carta, la cartografia, non è così neutra come si presenta, cioè nel senso che spesso i contenuti sono anche funzione di chi produce la cartografia e di che metodi vengono usati per produrla. Tanto è vero che, appunto, la carta viene intesa, deve essere intesa come un sistema convenzionale di segni, di simboli per rappresentare qualcosa, qualcosa che può essere il territorio, può essere anche qualcos'altro come vedremo. Alcuni esempi, vado veloce, vedete anche qui, a volte si usano anche figure umane o figure di altro tipo, vedremo più tardi, fino ad arrivare, qui vado un po' rapidamente alla cartografia romana, fino ad arrivare a quando la cartografia viene usata per scopi di navigazione. Anche se, ovviamente, cosa succede? Che in qualche maniera il colonialismo europeo ha imposto un po' le proprie convenzioni e le proprie forme, cercando in qualche maniera di uniformare tutto in funzione del punto di vista del dell'Europa. In questo contesto, ovviamente, la cartografia si è proclamata depositaria della vera concezione dello spazio, cioè nella cartografia io rappresento in maniera realistica quello che è il territorio. Questo ovviamente è una grande semplificazione, è un grande, è una grande ipotesi che, insomma, assolutamente non è, non è così, che lo vedremo. Con l'avvento, insomma, delle grandi conquiste e dei navigatori e, diciamo, delle scoperte geografiche, si iniziò, Mercatore produsse la prima, la prima carta, diciamo, la carta del globo terracqueo e, in qualche maniera anche questa carta era frutto dell'ipotesi di una di una convenzione molto centrata sul sul territorio e in particolare sull'Europa. Ovviamente cosa succede in quel periodo? Che l'Europa veniva vista al centro del mondo e, in qualche maniera, questo tipo di rappresentazione sicuramente faceva emergere molto di più le geometrie nella zona centro-europea rispetto alle dimensioni reali dei continenti e questo ovviamente non solo distorgeva la visione e la rappresentazione, ma anche dava un contributo, un forte contributo nella lettura politica delle carte e, ovviamente, del peso e dell'informazione che si andava a trasformare. Questo è alcune rappresentazioni e qui di Mercatore e di Blow e così, insomma, in questo periodo nacque e, in qualche maniera, venne maggiormente, come dire, a crescere la figura del cartografo. La figura del cartografo è molto, molto importante, ma il cartografo, innanzitutto, dovette confrontarsi e scontrarsi con un primo problema, cioè noi abbiamo una superficie reale, che è la superficie fisica della Terra, dobbiamo innanzitutto riportare questa superficie terrestre, molto complessa ovviamente, sopra una superficie tridimensionale semplificata, solitamente usiamo l'ellissoide, questa superficie matematica, per poi andare a, in qualche maniera, rappresentare queste ellissoide su una superficie piana, che è la mia carta. Qual è il problema? Sembra tutto molto semplice. Beh, non è così semplice perché, perché innanzitutto, la superficie che noi usiamo, cioè l'ellissoide, è una superficie cosiddetta non sviluppabile, cioè non si può prendere e aprire e si ottiene un piano continuo. Tutti immaginiamo una superficie sviluppabile, il cilindro, se voi tagliate il cilindro si ottiene esattamente un piano, mentre l'ellissoide è un po' come un'arancia, solitamente viene vista così, se voi sbucciate un'arancia non si ottiene un piano, ma in qualche maniera dobbiamo, se vogliamo passare da una superficie ellissoide a un piano, dobbiamo in qualche maniera fare una proiezione. Cosa succede con queste proiezioni? Beh, l'aveva già capito Mercatore e successivamente Gauss, si può fare una proiezione, ma, ma, cosa succede? Questa proiezione ovviamente genera, genera delle deformazioni. Questo è quello che matematicamente funziona, cioè io posso passare dal mio ellissoide a una superficie piana, quindi di rappresentazione, ma questo passaggio porta delle deformazioni, deformazioni delle aree, delle distanze, degli angoli. Quindi vuol dire che qualcosa misurato e letto sulla carta in realtà non è uguale a quello che abbiamo o può essere non uguale a quello che abbiamo nella realtà. E questo dobbiamo saperlo, perché altrimenti ci convinciamo che quello che c'è dentro una carta, quello che leggiamo nella carta, sia assolutamente la reale descrizione, rappresentazione di quello che c'è nel mondo vero. In realtà tante grandezze sono realtà, grandezze deformate. Allora cosa abbiamo? Beh, abbiamo essenzialmente questo, che le nostre grandezze sono deformate, quindi in qualche maniera angoli e lunghezze cerchiamo di mantenerle invariate su alcune condizioni, in realtà però questo non capita perché in realtà tutto viene deformato. Questo proprio perché dall'ellissoide, e l'ellissoide è una superficie non sviluppabile. Quindi cosa dobbiamo fare? Il passaggio è trasformare e proiettare i nostri punti dall'ellissoide al cilindro e poi successivamente il cilindro, altre superfici sviluppabili e poi sviluppare il cilindro su una cartografia. Vedete qui alcuni esempi, possiamo usare il cilindro, possiamo usare il cono, possiamo usare eventualmente proiezioni azimutali e quant'altro. Vedete vari esempi. Quindi anche qui questo ci dice che non abbiamo mai una rappresentazione unica, anzi è sempre una rappresentazione che può cambiare e viene a volte indicata in funzione di cosa vogliamo, qual è l'oggetto e l'ambiente in cui vogliamo rappresentare. Solo per farvi vedere che quando rappresentiamo e usiamo delle carte, le carte non sono semplicemente un disegno, ma sono e hanno una descrizione analitica, cioè c'è una stretta, strettissima relazione tra un punto sull'ellissoide, sulla nostra superficie di riferimento e il punto che abbiamo sulla nostra carta. Ovviamente questi punti sulla carta sono affetti da deformazioni, quindi dobbiamo e sappiamo calcolare quanto valgono queste deformazioni. Quindi noi sappiamo che esistono queste deformazioni, ma grazie a queste relazioni analitiche sappiamo anche perfettamente calcolare quanto è e quanto valgono queste deformazioni. Ripeto, deformazioni lineari, deformazioni angolari e deformazioni areali, cioè delle nostre superfici. Vado abbastanza veloci su questo. Quindi in realtà noi siamo un po' nati e le vediamo sempre le proiezioni di mercatore, in qualche maniera dove le geometrie non sono corrette, ma ovviamente cambia e la cosa corretta sarebbe adottare una proiezione differente, un po' più, come dire, verosimile. Per esempio la proiezione e la carta di Arno Peters. Qui vedete un confronto molto interessante tra la carta classica della proiezione di mercatore, quella con i bordi neri, e invece la carta di Arno Peters, che come vedete è quella verde, che sembrano due carte totalmente diverse. In realtà lo sono, perché si usano delle proiezioni diverse, ma la carta di Arno Peters è corretta da un punto di vista delle proporzioni e delle aree e delle geometrie. A sinistra vedete gli indicatori di Tissot che indicano come le geometrie e le aree sono deformate via via, che si cambia, in quanto viene cambiata la latitudine. Soltanto un confronto, a sinistra avete la proiezione di mercatore, dove Europa per esempio e Sud America sembrano paradossalmente uguali, anzi sembra che l'Europa sia più grande del Sud America, in realtà come sappiamo la superficie del Sud America è quasi il doppio di quella dell'Europa. Quindi vedete come una rappresentazione che noi assolutamente utilizziamo sempre, tutti i giorni, cioè quella di mercatore, quella che abbiamo negli Atlanti, nei libri di geografia e quant'altro, in realtà dia un'informazione da un punto di vista delle aree molto molto diverse. Vado veloce, anche qui un altro confronto, cartografia che rappresenta il territorio ma che in realtà può anche contenere altri segni, altra simbologia. Riporto questa simpatica stampa dove appunto si fa vedere come il mondo e la rappresentazione è sempre in qualche maniera legato in questo caso a una attività, insomma a una discussione politica tra buona parte e il ministro inglese William Pitt per dividersi in qualche maniera il nostro e il nostro globo, il nostro, il nostro, la nostra terra, insomma il nostro pianeta. Parlavamo prima di come si può rappresentare, per esempio ci sono le cosiddette carte zoomorfe dove si usano degli animali per descrivere e rappresentare degli interessanti aspetti anche territoriali e geografici. Ecco, quello che dobbiamo sempre tenere a memoria è che nelle carte noi andiamo sempre a rappresentare delle informazioni che hanno delle contenuti geografici, cioè che hanno delle coordinate abbinate quindi che in qualche maniera descrivono un oggetto, un territorio in questo caso non puramente da un punto di vista grafico ma anche da un punto di vista di localizzazione. Vado un po' veloce, un'altra cosa interessante è questa la carta, il planisfero visto dall'Australia, perché anche qui chi disegna e chi crea la carta ovviamente dà una sua interpretazione delle informazioni e questo io la trovo molto interessante perché ovviamente è vedere il mondo dal punto di vista degli australiani. Altre carte, vedete come le carte sfruttano tantissimo la simbologia per descrivere dei contenuti e trasferire delle informazioni e anche qui a volte i confini tra che ci sono, che sono ovviamente confini, linee virtuali, vengono bypassati da informazioni grafiche o informazioni con dei simboli. A questo per esempio una delle tante tipologie di carte che a me piace menzionare sono i cartogrammi, cioè le carte anamorfiche. Sono carte in cui a partire dalla reale geografia, quindi sono basate sulla geografia degli stati e delle regioni, viene trasmesso, viene definito un parametro statistico. Per esempio qui vengono ingranditi o ridotti le dimensioni degli stati in funzione del lavoro minorile. Sembrano delle cose molto semplici, oggi si fanno con dei software molto molto semplici. In realtà la costruzione di queste carte anamorfiche sono molto molto complesse perché bisogna abbinare l'informazione geografica con l'informazione statistica. Ad esempio qui relativa, come dicevo, al lavoro minorile. Per esempio di recente sono state fatte delle carte anamorfiche legate a questo tragico momento che stiamo passando, speriamo a breve termini, del covid. Vedete a sinistra la rappresentazione delle superfici provinciali della nostra amato paese, dall'altra parte deformate tenendo conto dell'area dei contagi. Quindi vedete come il dato e l'informazione che si dà con queste carte anamorfiche è molto molto interessante perché do sia un'informazione parzialmente georeferenziata ma anche da un punto di vista statistico. Vado verso la conclusione, sperando di non aver troppo sporato. Oggi esiste poi tutto un mondo molto interessante del crowd mapping, del volunteer mapping, cioè del creare dati geografici in qualche maniera con delle comunità di mappatori, diciamo, di volontari che producono della cartografia. In questo modo è possibile generare delle informazioni geografiche non vincolate e in qualche maniera più, diciamo, oggettive. Se sono ad esempio il progetto di OpenStreetMap piuttosto che il progetto di Ushuaidi, dove in qualche maniera è possibile creare della cartografia, delle informazioni geografiche anche in territori o delle zone dove solitamente magari la cartografia non viene creata o è molto molto scarpa. Per esempio il caso di cartografia creata per le comunità indigene per mappare il territorio e rivendicare la terra e proteggere le risorse naturali. Qui vedete alcuni esempi. Oppure usare il volunteer mapping per mappare delle emergenze. Perché? Perché bisogna raccogliere tantissimi dati in pochissimo tempo e qui ne è un altro caso in cui è stato coinvolto il, appunto, i volontari, quindi la popolazione e particolari comunità per raccogliere queste informazioni. Cosa possiamo concludere? Beh, possiamo concludere che solitamente in questo tipo di cartografia digitale cosiddetta condivisa, beh, tutti editano ma tutti possono controllare i contenuti dell'informazione geografica. Quindi possono capire se ci sono delle forzature, se ci sono degli errori. In qualche maniera tutti noi abbiamo in mano una penna, una matita e possiamo disegnare o rappresentare qualcosa a partire da immagini da satellite o quello che vogliamo. Una mappa geografica solitamente non rappresenta soltanto la forma del mondo ma soprattutto come è abitato, cioè o non abitato ovviamente, in quel pezzo di mondo raffigurato. Quindi quando andiamo a disegnare la cartografia è importante descriverne i contenuti con dei simboli, con dei colori diversi perché andiamo a costruire delle carte tematiche che si descrivono il territorio ma soprattutto descrivono come quel territorio è abitato e in qualche maniera occupato o non occupato. Vorrei concludere con questo, visto che l'evento ricorda anche Elisee Recluse, che lui aveva ben capito che una mappa geografica vera, in una mappa geografica vera, i confini geopolitici sono l'ultima cosa che servono perché in realtà una mappa geografica deve contenere altri tipi di informazioni e questo ci riconduciamo a quell'articolo del post. Venendo alla conclusione, come dire, questa è una lettura per gli studenti, io invito sempre a fare questa lettura come si può in qualche maniera mentire con le mappe, visto che io insegno cartografia, invito sempre i miei studenti a fare lettura di questo libro molto interessante e l'ultima cosa che vorrei lasciare chiudere con questo mio intervento è questo. Oggi ci dedichiamoci, come dire, ci occupiamo della cartografia, della rappresentazione di quello che c'è del territorio sul nostro amato pianeta, sul pianeta Terra. Sicuramente un punto è una zona dove non esistono in qualche maniera confini, non esistono tracce, non esistono in qualche maniera barriere e speriamo che non esistano mai e questa qui è la carta e la rappresentazione di Marte e oggi grazie alle nuove tecnologie riusciamo a fare anche le carte di altri pianeti dove forse appunto il concetto di confine, di bordo, di limite viene, come dire, in qualche maniera totalmente scavalcato perché ovviamente sono territori ancora liberamente disponibili e quindi non sono in qualche maniera vincolati a nessun concetto di confine o di barriera. Io con questo e con questa bella immagine colorata di Marte vi concludo, vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente lascio poi se ci sono domande per la fine. Non so se il mio ecco, il mio ecco, adesso funziona. Molte grazie professore, molte grazie al professor Marco Piras per l'escursus di cartografia. Penso che tra breve, tra brevissimo, il professor Ferretti parlerà insomma anche, ricorderà che insomma i nostri anarchici si rifacevano anche e soprattutto all'illuminismo e quindi vorrei ricordare che anche Kant insegnò geografia fisica all'università di Königsberg e che nelle sue dispense, poi tradotto anche in italiano, raccontò agli studenti delle due spedizioni intorno al 1735, una al polo, al polo nord, nei dintorni della Finlandia e uno all'equatore in Perù per misurare l'arco di Meridiano e stabilire se l'elessoide terrestre fosse schiacciato ai poli, come affermava Newton, o all'equatore secondo Voltaire. e questo è curioso, Voltaire pensava che l'equatore, insomma Voltaire è precedente certamente e Kant, ma pensava che l'equatore fosse, cioè che il nostro mondo fosse un uovo e non schiacciato ai poli. e volevo salutare la nostra ospite Silvia Pinelli, la figlia del partigiano Pino Pinelli e anche purtroppo perseguitato politico, nostra socia, pur vivendo a Milano, è socia dell'Ampia di Torino. e anche se non c'è l'immagine, c'è un altro ospite, Pechar, autore di un libro sul caso Berneri, ma soprattutto geografo e poiché è dell'Ampia nazionale di Roma, mi sembrava giusto inserirlo in questa conferenza. Allora, professor Federico Ferretti, lascio a lei il microfono. Benissimo, grazie e buonasera a tutte e a tutti. Per prima cosa volevo ringraziare gli organizzatori per questo gentile invito, tra l'altro con un messaggio che evocava in poche righe antifascismo, libero pensiero, libertà civili, evoluzionismo e anarchismo, insomma quelle cose che è proprio anche un piacere accettare. Ecco, e tra l'altro credo che a livello di discussione di geografia anarchismo, quindi dei primi geografie anarchici, tra i quali Reclus e Kropotkin, le introduzioni che hanno preceduto sono state l'ideale. Appunto, pensavo durante la presentazione di Marco Piras che Elisè Reclus aveva già affrontato il problema delle carte che mentono nel 1895 nel suo progetto per il Grande Globo all'esposizione di Parisi e poi ribadito in un paio di famose conferenze negli anni successivi alla Royal Geographical Society di Londra, che era un po' il centro di questa geografia all'epoca piuttosto imperialista che è stata evocata. Cercherò appunto di riferirmi anche al discorso dell'illuminismo che ci potrebbe andare lontano o senz'altro tra gli autori che vengono riscoperti poi oggi anche dai geografi umani, c'è Kant, c'è questo discorso non solo della geografia fisica o della querelle della platismo che è stata citata, ma anche poi come si conosce, cioè le coordinate ad esempio di tempo e spazio con cui in qualche modo la modernità ha dato senso al mondo e che poi con la postmodernità sono state anche un po' messe in discussione come lenti per vedere la realtà che è qualcosa che interessa molto oggi i geografi. Ma per andare con ordine e per restare sul tema mi propongo, come avevamo detto, di spiegare brevemente prima la relazione tra geografia e anarchismo. Poi perché questa relazione tra anarchismo e scienza, quindi all'epoca di Reclue Kropotkin, Darwinismo e evoluzionismo e molto brevemente anche perché ci stiamo occupare oggi di questi discorsi. Allora, per cominciare, la relazione tra geografia e anarchismo si divide a sua volta in un paio, credo, di linee principali. Cioè la prima è una relazione storica e concreta, una corrispondenza tra alcuni personaggi che sono stati considerati allo stesso modo tra gli ispiratori di un discorso critico e moderno in geografia, tra cui appunto Reclue e Kropotkin e allo stesso tempo anche tra gli ispiratori di quello che è stato il movimento anarchico storico reale e concreto. E ci sono ancora i due che ho citato, ma ce ne sono anche tanti altri. Dunque, bene, intanto magari per gli ascoltatori che non siano proprio al corrente di tutte queste discussioni, fare una piccola premessa sull'anarchismo, uno degli aforismi principali di Elisée Reclue era che appunto l'anarchia è la massima espressione dell'ordine, quindi questo già ci deve far diffidare di tutti gli usi del termine anarchia o derivati come sinonimo di caos, disorbine o quant'altro. L'anarchismo è stato ed è tuttora un movimento del campo socialista che come è stato anticipato pone una fortissima enfasi sull'equiparazione dei principi di uguaglianza, dei principi di libertà e sulla coerenza dei mezzi e dei fini. Filosoficamente lo si fa da alcuni risalire addirittura ad alcune filosofie dell'antica Grecia o al discorso delle libertà comunali del Medioevo e senz'altro transitato attraverso alcuni episodi della storia del repubblicanesimo classico, dai diggers durante la prima rivoluzione inglese alle parti più radicali della rivoluzione francese del 1789, difesa all'epoca da William Godwin che non a caso fu uno degli avversari di Thomas Malthus, come spieghiamo dopo e a sua volta uno degli ispiratori dell'anarchismo come idea politica che fu rivendicata apertamente attorno alle rivoluzioni europee del 1848 da autori come Pierre-Joseph Proudhon che fu tra i primi che rivendicarono il discorso di anarchia come proposta politica alternativa a quelli che erano i campi del socialismo e del repubblicanesimo di quell'epoca. L'anarchismo poi assume prominenza attraverso figure un po' mitologiche come quella di Michael Bakuni, ma se vogliamo vedere poi la connessione storica con i geografi dobbiamo considerare che il movimento anarchico organizzato e consapevole di questa identità e che assume questo nome si consolida in qualche modo con la generazione successiva ai vari Proudhon e Bakuni ed è la generazione dei Krapotkin e dei Reclus perché sono militanti che passano per un paio di esperienze che sono fondamentali poi in questa costruzione di un movimento anarchico che si riconosce in quanto tale che sono prima la comune di Parigi già evocata nel 1871 e poi la internazionale anti-autoritaria costituita con il congresso di Saint-Imier del 1872 e in quegli anni con le sezioni di questa internazionale tra cui quella a Svizzera, la Federazione Jurassienne in cui sia Reclus sia Kropotkin sono stati particolarmente attivi anche lavorando proprio a un discorso geografico e in parallelo a un discorso politico. È importante rimarcare che al di là delle etichette queste esperienze vissute nel caso della comune vissute in prima persona da parte di Elisée Reclus c'è una rottura da una parte con quello che era il repubblicanesimo radicale e successivamente con l'internazionale anti-autoritaria una rottura con il marxismo appunto per un discorso che doveva essere socialista ma federalista e anti-autoritaria. Qui entra anche in gioco la geografia perché come si è detto prima riguardo ai confini la geografia gioca un ruolo nella regionalizzazione quindi anche nella prefigurazione delle realtà territoriali e quindi un ruolo strategico e di cui una parte anche del mio lavoro di ricerca negli ultimi anni soprattutto attorno alla mia tesi di dottorato sulla nouvelle geografie universelle la nuova geografia universale che si considera questa grande opera geografica enciclopedica in 19 volumi nell'edizione originale francese scritta da Elisée Reclus e per questo lo si considera appunto anche uno degli ispiratori della geografia moderna con un'importante considerazione da fare che all'epoca soprattutto da parte della stampa ufficiale si faceva notare un po' questa contraddizione tra un personaggio che era riconosciuto in tutto il mondo come un geniale geografo e un geniale scienziato e che allo stesso tempo era bandito e a sua volta perseguitato politico perché Elisée Reclus dopo la comune di Parigi fu imprigionato e successivamente esiliato in Svizzera un equivoco che poi è durato fino a tempi molto recenti in cui si è continuato a considerare questa nuova geografia universale come qualcosa di più convenzionale rispetto ad altri lavori di Reclus medesimo e quindi continuando a vedere una pretesa schizofrenia tra geografia e anarchismo ora visto che io sospetto che una delle principali ragioni per cui c'è stato diciamo questo equivoco sia che molti probabilmente non hanno letto questi 19 volumi da un lavoro sistematico su questo testo e sulla fabbrica dell'opera cioè sulle corrispondenze editoriali della nuova geografia universale è risultato che intanto era firmata da Elisée Reclus per ragioni editoriali perché era un nome famoso che permetteva all'editora Schett di vendere ma in realtà era un lavoro assolutamente collettivo fatto da una rete di scienziati studiosi che erano anche anarchici esiliati in Svizzera dopo la comune o perseguitati da altri regimi autoritari europei e il caso in particolare dell'impero russo nel caso di Kropotkin che ovviamente dopo la sua famosa fuga nel 1876 dalla Russia passò dall'Inghilterra e prima di ritornarvi e di questo parlerà probabilmente Selva si fermerà qualche anno in Svizzera in cui partecerà alla fabbrica di questa grande enciclopedia geografica assieme ad altri esiliati Mikhail Dragomanov che era un federalista prudoniano ucraino ora considerato da quelle parti una specie di padre della patria ma in realtà un geografo libertario a sua volta Lievich Meshnikov meglio considerato con l'addizione francese Leon Meshnikov che fu a sua volta un geografo e un militante internazionalista specializzato nell'estremo oriente e quindi anche nel gettare un ponte tra diverse culture che era una di queste era una poi delle finalità di questa geografia un internazionalista svizzero che era Charles Perron che costruì per la nuova geografia universale questo apparato di carte che anticiparono quella che si chiama oggi la cartografia tematica cioè quella che non si limita a fare quella riduzione matematica di cui ha parlato Marco Piras ma che tenta anche di rappresentare degli aspetti qualitativi della realtà personaggi anche poco conosciuti ma eccezionali per la loro storia politica come Gustave Lefrancais un esiliato francese che faceva viveva in Svizzera facendo il segretario editoriale della nuova geografia universale ma aveva avuto ruoli importantissimi in tutte queste vicende storiche perché era stato primo presidente della comune di Parigi aveva anche presieduto la prima giornata del congresso di Santi Mie quindi il fatto stesso che quest'opera rappresentasse questo circuito assolutamente alle origini di quello che poi si è caratterizzato come l'anarchismo comunista si deve far pensare come si deve far pensare che questo stesso gruppo negli stessi anni lavorasse a giornali internazionalisti come un giornale che si stampava tra Lausanne e Ginevra che si chiamava Le Travaillers che aveva quasi lo stesso comitato editoriale della nuova geografia universale che affrontava alcuni dei temi che erano tutt'altro che descrittivi o convenzionali se li mettiamo nel contesto della loro epoca perché erano temi come le libertà dei popoli slavi nei confronti degli imperi di Mosca, Vienna e Costantinopoli erano temi come la scoperta di temi sociali associati ad altri popoli come i contadini giapponesi studiati da Mechnikov perché? Perché questo poi ci porta a vedere la seconda parte di questa connessione che è la connessione teorica tra geografia e anarchismo cioè come sapere che si rifanno ad alcuni punti di considerazione ad esempio dello spazio che il marxismo classico non considerava con la stessa importanza e alla stessa maniera quindi in questo senso l'anarchismo si contraddistingue per il mutuo appoggio di cui parlerà Selva ma che è qualcosa che ha comunque una forte componente spaziale l'anarchismo si ispira ai concetti di decentralizzazione produttiva che lo stesso Krapotkin studierà a partire da esempi storici sulla industria e l'artigianato britannico i concetti di federalismo e comunalismo per cui per cambiare la società in senso egualitario e anti-autoritario bisogna anche lavorare sugli spazi anche lavorare sulle scale decisionali questo è un fondamentale punto di contatto tra geografia e anarchismo e anche trattandosi di una geografia universale il concetto di unità umana e fraternità universale che era completamente alternativo alla geografia imperialista di gran parte dei geografi dell'epoca che sostenevano appunto gli imperi europei e il razzismo scientifico siamo assolutamente agli antipodi di questo discorso con Elisa Reclue e la nuova geografia universale mostro anch'io un attimo una immagine che è questa carta tematica appunto disegnata da Charles Perron per Elisa Reclue che secondo me sintetizza brillantemente questo discorso soprattutto perché è una carta demografica e statistica il suo bersaglio polemico sono le idee di Thomas Malthus sull'eccesso di popolazione come causa della povertà gli anarchici e tutto il mondo socialista dell'epoca si appoggiano alla geografia, alla scienza per dimostrare che questo non era vero che il problema della povertà non era l'eccesso della popolazione rispetto alle risorse ma come queste risorse erano distribuite infatti vediamo in questa carta una sovrapposizione tematica al centro c'è il centro di Parigi cioè la città di Parigi che era appunto all'epoca la città della comune la città simbolo della rivoluzione e un cerchio in cui si stimava che la popolazione mondiale avrebbe potuto stare a quattro persone in piedi per metro quadrato cioè le stime della popolazione globale dell'epoca che erano un miliardo e qualcosa di esseri umani avrebbero potuto tenere questo spazio sulla banlie di Parigi se avessero potuto un giorno unirsi in assemblea fraterna o in agora come la vogliamo chiamare questo aveva una fortissima significazione simbolica dal momento che ovviamente mostrava il principio dell'unità umana e il principio che in fatto di geografia dell'alimentazione delle risorse la ragionevolezza avrebbe permesso delle soluzioni eque ed egualitari e infatti mi avvicino rapidamente agli ultimi punti il discorso dell'evoluzionismo e della scienza da parte dei geografi anarchici è esattamente quello di utilizzare gli strumenti scientifici per avanzare un discorso di progresso sociale dapprima innestandosi sul discorso darognano ed evoluzionista come ragione e rassocinio razionale e laico per togliere campo alle religioni questo soprattutto a livello di educazione primaria e di educazione popolare ma anche per consentire al discorso della trasformazione sociale anche per consentire al discorso della realizzazione di una società giusta e anarchica delle basi che la rendessero non solo auspicabile eticamente ma ragionevole scientificamente qua anche il fatto che ci fosse questa elaborazione comune delle idee di mutuo appoggio quindi di una interpretazione cooperativa e solidaristica del darwinismo in questo circuito di geografi in cui appunto in realtà lavorano Recluse, Kropotkin e Meshnikov come un'equipe si inserisce in un discorso più vasto sul concetto di evoluzione che è anche un concetto politico perché in questi anni si prepara questo famoso pamphlet di Elisée Recluse l'evoluzione, la rivoluzione e l'idea anarchica quindi evoluzione, rivoluzione e idea anarchica a partire da una conferenza che viene fatta in Svizzera attorno al 1880 e che parla di evoluzione e rivoluzione come due diverse velocità di un processo di trasformazione sociale seguendo una dialettica binaria una dialettica che comunque si rifà alla filosofia della natura e non è la dialettica hegeliana ma tenta di dare una razionalità a un discorso di trasformazione sociale che vede la rottura rivoluzionaria ma vede anche quello che può essere la conquista, il miglioramento quella che è l'educazione quella che è comunque l'avanzamento dei diritti e della consapevolezza come due aspetti che non sono in contraddizione ma possono partecipare dello stesso percorso da notare essendo anche stato citato l'illuminismo che c'è ovviamente un riferimento per quanto critico al discorso illuminista come poi successivamente al discorso positivista perché se da una parte si rivendica in qualche modo la scienza tra virgolette detta all'epoca positiva dall'altra c'è da parte di Reclui-Cropotkin una critica abbastanza esplicita dei vari Comte, Spencer di quello che poteva essere il positivismo tra virgolette mainstream di quell'epoca perché ripetono spesso che la scienza non deve creare una nuova religione un nuovo dogmatismo ripetono spesso che la scienza comunque procede per sperimentazioni e per approssimazioni successive cioè non c'è questo mito acritico della scienza che poi è stato rimproverato dalle tendenze post-moderne e post-strutturali a tutto il mondo intellettuale di quest'epoca che era molto variegato tra l'altro se leggiamo Elisee Reclui non aveva neanche poi questa visione lineare del tempo e del progresso nonostante fosse relativamente ottimista perché comunque questo discorso della dialettica evoluzione e rivoluzione implicava che ci potessero essere avanzamenti ma anche arretramenti Reclui cite esplicitamente vico sul discorso dei corsi e ricorsi sul discorso di un tempo ciclico che non è lineare quindi insomma anticipa anche molte delle tendenze critiche contemporanee sull'idea di progresso Finalmente sì è bene poi comunque ricordare che all'epoca queste idee evoluzioniste che circolavano attorno alla geografia di Reclui e Kropotkin erano anche patrimonio comune di gran parte del pensiero socialista e critico in Italia addirittura uno di quelli che poi furono i protagonisti del socialismo moderato ossia Camillo Prampolini da giovane scrive articoli su scienza e socialismo in cui l'Oda Elisee Reclui riferimenti a Reclui Meshnikov e Kropotkin si trovano tantissimi altri autori tra socialismo e repubblicanesimo federalista dell'epoca come Arcangelo Ghisleri e Napoleone Kolaiani insomma era un pensiero che circolava e contaminava perché questa era appunto anche parte della strategia di comunicazione di Reclui e Kropotkin dalla propaganda popolare spicciola fino a cercare di parlare un po' con tutti in conclusione perché ci occupiamo adesso di queste cose perché come abbastanza sodato da gran parte degli storici della scienza le vecchie idee tornano indietro ritornano sotto varie forme abbiamo in questo periodo anche una riscoperta purtroppo in alcuni casi di quelli che erano gli avversari della geografia critica dei geografi anarchici tra cui il determinismo climatico associato a una presunta superiorità del nord del mondo il malthusianismo applicato al discorso della crescita della popolazione se ci ricordiamo di quella carta che ho fatto vedere l'argomento di Reclui era che a questo miliardo e qualcosa di persone la terra avrebbe potuto dar da mangiare tranquillamente beh oggi ne abbiamo tra i sette e gli otto retrospettivamente si può dire che aveva anche qualche ragione assistiamo a un ritorno di ideologie preoccupanti come creazionismo fanatismo religioso e anche negazionismo scientifico per cui credo che sia assolutamente importante anche riscoprire e riattuare criticamente alcuni di questi strumenti critici, culturali, sociali, intellettuali che questa più che secolare connessione tra geografia e anarchismo ci propone quindi vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Selva attiva l'audio allora io ringrazio tantissimo anche da parte di Bruno Segre il professor Ferretti perché è stata una conferenza è stato un intervento veramente molto interessante mi è piaciuto anche la critica all'illuminismo perché ne ero convinto però insomma volevo vedere che cosa avrebbe risposto Federico Ferretti a questa mia insinuazione ecco allora do la parola a Selva Varengo che ci parlerà di Krapotkin il principe anarchico fuggito ha dovuto fuggire ovviamente dalla Russia ancora zarista e ha incontrato poi il grandissimo Elisere Clu e con cui ha fatto credo una grandissima amicizia prego Selva Varengo ascoltiamo ecco grazie grazie a tutti grazie dell'invito sono molto contenta si sente? si vedo si sono molto contenta di parlare di Reclue di Kropotkin di essere qui oggi mi fa molto piacere ringrazio Federico poi perché ha già dato un quadro ha già dato tanti elementi ha toccato già tanti aspetti che avrei voluto toccare sono felice che li ha toccati lui sul pensiero anarchico perché non si può parlare chiaramente di Reclue di Kropotkin senza parlare del pensiero anarchico quindi avere già questa introduzione è utile insomma per procedere nel discorso ci tengo a dire che io non sono una geografa forse sono l'unica a questo punto che non si occupa di geografia mi occupo di storia delle idee per cui il mio taglio è un po' diverso però ovviamente il mio compito oggi è di raccontarvi un po' della figura di Kropotkin o Kropotkin questo punto scoperto oggi che da chi sa il russo meglio di me che la O diventa nella lingua russa innanzitutto vorrei ricordare che quest'anno ricorre il centenario della morte di Kropotkin sono esattamente cento anni perché Kropotkin è morto nel 1921 e proprio per questo motivo sono stati organizzati e saranno organizzati anche nel corso dei prossimi mesi tutta una serie di conferenze di cui una Federico è il principale organizzatore a livello internazionale proprio perché vi è una riscoperta del pensiero di Kropotkin e perché si sta cercando insomma di coordinarsi anche a livello internazionale perché sono numerosi gli studi su questa figura e anche perché io ritengo che vi è una riscoperta dell'attualità del pensiero di Kropotkin e io ritengo che ci sono molti aspetti che oggi meritano di essere ripresi e per fortuna non sono l'unica a pensarla così prima però insomma di entrare un po' nel merito del pensiero di Kropotkin vi fornisco alcuni elementi biografici soprattutto magari per chi non lo conosce so che ci sono tanti studenti magari non sanno non l'hanno mai neanche sentito nominare perché è una figura che seppur ha dato un importante contributo sia a livello scientifico che a livello teorico per il pensiero politico per l'anarchismo in particolare è una figura che spesso non compare e non compare nei manuali di storia del pensiero politico ha solo un trafiletto insomma una figura che merita ancora di essere riscoperta adeguatamente ha dato appunto dicevo contributi a livello scientifico su cui io non mi soffermo perché non è il mio campo però so che a livello geografico e a livello geologico sia con le sue scoperte scientifiche ha fatto una serie di esplorazioni in Siberia e quindi so che a livello anche cartografico ha dato dei notevoli contributi oltre ovviamente alla collaborazione con Reclus a cui Federico accennava prima e magari avremo occasione di tornarci dopo ma so che ha collaborato appunto attivamente alla stesura della nuova geografia universale ma accanto a tutto ciò quindi accanto a tutto un lavoro scientifico Kropotkin sin da giovane ha tutta una parte militante ha tutta una parte di attivismo politico oltre che di teorizzazione politica a Kropotkin ad esempio bisogna riconoscergli il merito già dei suoi contemporanei gli veniva riconosciuto di aver contribuito sicuramente a un riconoscimento dell'anarchismo in ambito scientifico non a caso nel 1910 è a lui che viene affidata la stesura della voce anarchismo all'interno dell'enciclopedia britannica quindi un riconoscimento importante ad esempio in occasione del suo settantesimo compleanno saranno molti a livello internazionale a rendergli omaggio a livello scientifico e uno dei principali giornali londinesi finirà il nostro ospite più lustre il nostro esule più lustre questo per dare un senso anche di quello che era lo spessore all'epoca della figura di Kropotkin Kropotkin ha scritto appunto tutta una serie di articoli scientifici e accanto a ciò ha sempre portato avanti un'opera di propaganda e un'opera teorica e per questo ha scritto numerosi opere numerosi volumi e anche molti opuscoli moltissimi opuscoli proprio in questi giorni stiamo cercando di fare una raccolta di quelli che sono tutti gli opuscoli usciti di Kropotkin solo in italiano e sono veramente un numero infinito tra questo c'è sicuramente Ai Giovani che è quello che ha avuto più diffusione che è stato tradotto penso ormai in tutte le lingue e che anche in italiano ha avuto decine di edizioni e andare a ricercare tutte queste edizioni è anche un lavoro molto interessante perché si vede come in base alle varie epoche storiche ci sono più o meno edizioni dell'opuscolo che girano oltre a tutto ciò Kropotkin ha anche lavorato a livello di diffusione proprio di propaganda e ha fondato personalmente insieme ad altri diversi giornali tra cui sia in Svizzera che poi in Inghilterra tra cui Revoltè La Revolt Freedom di cui mi sono occupata insomma tutta una serie di periodici importanti proprio perché riteneva fosse necessario accanto a un'opera di studio accanto a un'opera più approfondita sempre affiancare un'opera di divulgazione riteneva fondamentale appunto quest'opera di divulgazione quest'opera di diffusione della conoscenza continua per cui a ogni opera magari a ogni tomo a ogni volume affiancava sempre un articolo scritto anche per chi magari leggeva sapeva poco leggere chi aveva accesso solo ai giornali e questo è un elemento importante per la sua figura nel senso che era continuamente impegnato per una necessità di diffondere la cultura e l'educazione era fortemente convinto dell'importanza educativa adesso vorrei fare giusto un paio di cenni biografici per inquadrare un po' il personaggio prima di entrare poi un po' più nel merito del suo pensiero sappiamo appunto che era un russo che è nato a Mosca e è nato a Mosca nel 1842 da una famiglia aristocratica dell'alta aristocrazia per quello che tutti appunto ancora oggi viene definito il principe anarchico in realtà lui si veniva da una famiglia dell'alta aristocrazia ma per sua scelta ha rotto con la famiglia ha rotto con la aristocrazia russa e quindi non ha più avuto nessun beneficio dalla sua situazione familiare anzi si è sempre a partire dagli anni dall'esilio di cui adesso a breve vi racconterò si è sempre dovuto mantenere autonomamente avendo appunto rotto completamente quella famiglia quindi non avendo nessun tipo di beneficio di questo senso ed era una cosa che lui sottolineava che rivendica nelle sue memorie per cui anche questo sempre sottolineare il fatto che è un principe anarchico non so se proprio è giusto nel senso che è noto così però a livello suo personale forse gli avrebbe creato qualche problema perché lui con l'aristocrazia aveva decisamente rotto l'aveva rotto pagando pesantemente sulla propria pelle questa rottura detto questo che è importante credo però in realtà cresce tutto nell'ambiente aristocratico fa parte addirittura del corpo dei paggi dello zar nelle memorie racconta come la zarina lo tenesse in braccio e quindi l'avesse letto come uno dei suoi prescelti in qualche modo fa parte anche dei cosacchi cosacchi con i quali andrà in Siberia ed è da lì nel periodo appunto della Siberia che inizia le sue esplorazioni scientifiche geografiche che faranno sì che dà avvio un po' alla sua attività scientifica attività scientifica che è interessante ricordare gli permette di mantenersi cosa che oggi credo sia abbastanza impensabile nel senso che pur rifiutando ogni tipo di cattedra ogni tipo di incarico accademico che gli viene offerto in realtà sia a Mosca sia a fine della sua vita a Russia quando ritornerà in Russia per la seconda volta ma rifiuterà sempre qualsiasi tipo di incarico istituzionale ma nonostante questo con la sua attività scientifica col suo scrivere sui giornali con le sue pubblicazioni riuscirà in qualche modo a mantenersi e a mantenere la sua famiglia e questo è un aspetto interessante nel senso che riesce comunque in qualche modo a vivere di quello che è la sua attività scientifica nel 1872 quindi da giovane compie come quasi tutti i russi aristocratici un viaggio nell'Europa occidentale fa questo viaggio di tre mesi che era un po' tipico della formazione del giovane russo e in questo viaggio va in Svizzera in Svizzera è dove incontra ed entra in contatto con i membri della federazione del giura di cui ci parlava appunto prima Federico quindi entra in contatto con la prima internazionale ed è lì lo dice lui lo scrive nelle sue memorie tra l'altro un libro bellissimo Memorie di un rivoluzionario che si legge come un romanzo è veramente una lettura piacevole in cui racconta che proprio in Svizzera diventa anarchico ovvero è lì che decide di impegnarsi per la rivoluzione sociale è lì che decide che il suo obiettivo principale della vita è appunto dedicarsi all'ideale anarchico da quel momento effettivamente lui per quanto continuerà la sua attività scientifica sempre la sua principale occupazione a quel punto sarà un'occupazione di tipo militante e di tipo riflessivo va all'interno del pensiero anarchico quindi quando rientra e ritorna in Russia dopo questo viaggio avendo rafforzato quelle che erano le sue convinzioni già convinzioni di sensibilità sociale comunque si impegna attivamente entra a far parte del circolo Tchaikovsky questo circolo rivoluzionario chiaramente sotto pseudonimo e inizia tutta una serie di attività di propaganda rivoluzionaria quando si scopre che questo Borodin che era il pseudonimo che usava Kropotkin per tenere conferenze incontri segreti è in realtà il grande geografo Kropotkin di cui già già conosciuto a livello della comunità scientifica internazionale Kropotkin viene arrestato viene arrestato senza processo viene arrestato e imprigionato nelle famose fortezze di Santi Pietro e Paolo ed è durante questa carcerazione che estende ad esempio quella cartina geografica che ci ha fatto vedere il professor Piras all'inizio sono gli anni in cui lui all'interno della fortezza dove rimane per tre anni continua tutta la sua opera scientifica di elaborazione cartografica perché Kropotkin spesso durante le prigionie ne subirà altre in Francia continua a lavorare a livello scientifico ovvero proprio quando in carcere ha probabilmente un momento anche per fermarsi e per andare avanti con l'attività scientifica ad esempio quando poi sarà in carcere a Leone per tre anni anche lì sarà lo stesso reclue a fornirgli tutto il materiale necessario per lavorare nella sua nel suo studio per continuare i suoi studi dalle fortezze Pietro e Paolo come ci raccontava prima Federico riesce ad evadere con questa fuga spettacolare che racconta veramente come un romanzo nelle sue memorie dopodiché fugge nell'Europa occidentale dove rimane in esilio per più di trent'anni ovvero per più di trent'anni non farà mai ritorno in Russia per questo dico che fa delle scelte personali che paga personalmente che quindi fanno sì che continui una coerenza in qualche modo di pensiero e di azione per tutta la sua vita infatti Kropotkin si è definito anarchico nel suo primo viaggio in Svizzera e anarchico rimane fino alla morte quindi con una coerenza anche ideale lunga diversi decenni in Svizzera è una volta fuggito appunto dalla fortezza attraverso vari paesi dell'Europa e arriva in Svizzera dove vi è appunto come ricordava sempre Federico in esilio anche reclue e stringono lì tutta questa rete di amicizie di scambi di conoscenze scientifiche politiche ed è un periodo molto intenso periodo molto intenso che si conclude perché nel 1881 Kropotkin viene espulso anche dalla Svizzera viene espulso dalla Svizzera perché nel frattempo è stato ucciso Rozar Alessandro II e il governo russo chiede alla Svizzera di espellere Kropotkin per cui Kropotkin riparte e andrà alla fine a stabilirsi nell'86 in Inghilterra prima fa un periodo in Francia che è il periodo dove viene intercerato a Lione insieme tra l'altro a Louise Michel che è una delle protagoniste della Comunità di Parigi e questo processo di Lione che avrà molta eco sulla stampa saranno molti gli intellettuali a livello internazionale a impegnarsi per la loro rivelazione tra cui reclue avrà un ruolo molto forte e dopo tre anni appunto viene liberato nell'86 va a Londra vicino Londra e vi rimane per tantissimi anni per più di 30 anni 31 anni per l'esattezza ed è questo il periodo della sua maturità la sua maturità sia intellettuale un momento dove scrive le sue opere più importanti anche perché inizia ad andare avanti con l'età inizia quindi a limitarsi un po' la sua attività più propagandistica la sua attività di oratore di conferenze e si dedica più allo studio tutto ciò fino alla rivoluzione russa del 17 perché quando scoppia la rivoluzione in Russia Kropotkin parte decide di partire nonostante l'età e si reca in Russia si reca in Russia dove anche lì le sue vicissitudini continuano avrà un incontro con Kerensky che gli offrirà addirittura una posizione come ministro ma che Kropotkin rifiuterà rifiuterà come ha sempre rifiutato ricordavo ogni tipo di ruolo sempre per una sua coerenza con le idee rifiuterà questo ruolo di ministro incontrerà anche Lieni avrà una serie di incontri con Lieni si scambierà anche delle lettere in cui Kropotkin comunque denuncerà sempre i metodi autoritari adottati dai bolsheviti fino alla scelta di autoesiliarsi in un paesino vicino Mosca dove morirà poi appunto nel febbraio del 21 e i suoi funerali saranno partecipati molto partecipati e è possibile vedere il video su YouTube è presente un video molto breve ma molto intenso ed è sarà l'ultima manifestazione degli anarchici della Russia dove si vede appunto sfilare queste grandi bandiere nere con la scritta dove c'è autorità non c'è libertà questo è un po' per avere il percorso della vita di Kropotkin che è una vita significativa anche perché io credo che non si possa separare mai poi l'opera di un autore dalla sua vita soprattutto in questo caso perché vi è una forte coerenza tra quello che Kropotkin sosteneva e quello che poi personalmente ha vissuto scusate ecco per quanto riguarda quello che poi invece un po' è proprio il suo pensiero politico innanzitutto vi anticipo già che farò solo decenni non è che ho intenzione di tediarvi ancora molto però ci tengo a ricordare appunto come egli decida di definirsi anarchico sin da giovane come lo rimanga e come per esattezza si definisca un comunista anarchico comunista anarchico che da un lato critica il capitalismo in particolare la proprietà privata il lavoro salariato e dall'altro lato ovviamente critica lo Stato e lo Stato sotto qualunque forma si presenti e l'abbiamo visto sia che sia la democrazia rappresentativa sia che sia quello che viene chiamato il governo rivoluzionario bolshevico quindi una critica forte al capitalismo allo Stato perché l'obiettivo di Kropotkin come poi in realtà del pensiero anarchico è quello di costruire una società totalmente differente da quella lui contemporanea una società totalmente differente anche chiaramente dalla nostra società attuale quello che Kropotkin aspita è la creazione di una nuova forma di società una società che sia basata innanzitutto su una confederazione una confederazione decentralizzata di comunità libere e di associazioni volontarie una società quindi che non che non debba essere controllata da un potere centrale o da un sistema giudiziario o da delle leggi ma una società che sia basata sull'aiuto reciproco e sull'autogestione comunitaria Kropotkin sostiene in questo senso anche si può definire un comunista anarchico come ognuno da ciascuno da ciascuno secondo le sue capacità e a ciascuno secondo i propri bisogni ovvero ritiene che i bisogni individuali e i bisogni sociali possano e devono essere organizzati e soddisfatti non attraverso lo Stato ma attraverso delle comunità locali autogestite e confederate e attraverso delle associazioni volontarie quindi una forte critica a quello che è l'accentramento statalista quello che è l'accentramento burocratico delle società moderne a cui Kropotkin contrappone una visione federalista forte basato su liberi accordi e sul riconoscimento delle diversità reciproche le riflessioni di Kropotkin riguardano vari temi al di là appunto della riflessione sulla costituzione di una nuova forma di società o sulla rivoluzione sociale Kropotkin riflette su una necessità di costruire un'economia morale sulla distinzione tra lavoro coercitivo e lavoro creativo ci lavora molto su questo sulla necessità di decentralizzare ad esempio le grandi aziende sulla critica al sistema carcerario sull'educazione l'educazione è un aspetto importante per Kropotkin si occupa di educazione integrale ovvero della necessità di combinare sempre conoscenza intellettuale e lavoro manuale questo per far sì che ogni persona possa essere coinvolta sia in compiti produttivi ma anche vivere una vita piena e una vita diversificata una vita ricca poi è necessario ricordare almeno le sue riflessioni sull'etica sono riflessioni importanti Kropotkin cerca di costruire un'etica che non sia basata sulla religione o sulla metafisica ma che sia basata sulla natura stessa e sui principi di socialmolezza e di mutuo appoggio ecco è proprio questo ultimo aspetto quello del mutuo appoggio su cui vorrei concludere un attimo il concetto di mutuo appoggio diceva un concetto importante per Kropotkin su cui bisogna necessariamente soffermarsi un attimo Kropotkin è un darwinista era un convinto darwinista e a partire già dal 1880 inizia a studiare la teoria dell'evoluzione profondamente influenzato dagli studi di uno zeologo russo tale Kessler attraverso una serie di studi multidisciplinari perché la multidisciplinarietà è un elemento che caratterizza fortemente il lavoro di Kropotkin una serie di ricerche sul campo attraverso anche le sue spedizioni geografiche a cui accennavo inizialmente ecco attraverso tutto ciò Kropotkin elabora un'interpretazione originale della teoria dell'evoluzione in qualche modo e il suo obiettivo principale è quello di contrastare quelle che sono le tesi obesiane la tesi della sopravvivenza del più forte e quindi confutare le tesi del darwinismo sociale che alla sua epoca a partire da Huxley Spencer e via dicendo venivano utilizzate anche per giustificare un capitalismo senza freni per giustificare la necessità di una società gerarchica ecco secondo Kropotkin tutto ciò è uno stravolgimento del pensiero di Darwin che soprattutto nell'origine dell'uomo in realtà individuava due principi evolutivi ovvero individuava come accanto al principio della lotta per la sopravvivenza vi fosse un altro principio evolutivo quest'altro principio evolutivo era un altro fattore dell'evoluzione ed era il principio del mutuo appoggio mutuo appoggio che oggi chiameremo forse aiuto reciproco altruismo cooperazione solidarietà il concetto è questo questo vuol dire che Kropotkin non nega l'esistenza della competitività non nega l'esistenza di istinti antisociali istinti individualistici ma rivendica però l'importanza e la necessità di soffermarsi anche anzi soprattutto sul principio del mutuo appoggio che è un aspetto a suo parere che è stato per lungo tempo sottovalutato e trascurato ma che in realtà è un aspetto forte anzi che è un aspetto più influente di quello dell'aspetto collaborativo un aspetto cooperativo e più influente dell'aspetto della lotta e del conflitto grazie quindi tutta una serie di dati che raccoglie nelle sue spedizioni una serie di dati biologici all'osservazione di una serie di comportamenti cooperativi sia nel mondo animale che nelle società umane lui si sofferma molto anche nello studio della storia nei studi antropologici dei suoi contemporanei ecco attraverso tutti questi dati Kropotkin sostiene come l'aiuto reciproco e la socialità siano presenti nel regno animale e anzi siano un fattore importante fondamentale dell'evoluzione scrive Kropotkin che la sociabilità è una legge della natura tanto quanto la lotta tra sigli quindi riconosce entrambi i fattori un ruolo importante all'interno del processo evolutivo ma sottolinea come sebbene vi siano dei conflitti sicuramente soprattutto tra specie diverse o tra classi di animali diversi sottolinea come in realtà vi sia l'elemento del mutuo appoggio che è un elemento che favorisce e sostiene l'evoluzione e il rafforzamento della specie quindi un aspetto importante un aspetto che è stato ripreso recentemente da una serie di di biologi c'è tutta una branca della biologia che lavora oggi sulla cooperazione penso a Stephen Gould penso a Lee Lugat c'è tutta una serie di biologi dei primatologi che stanno recuperando questo aspetto e ad esempio al neurobiologo vegetale Stefano Mancuso che nella Nazione delle Piante appunto parla fortemente di questo approccio kroposchiano e dell'importanza di questo elemento del mutuo appoggio ovviamente sottolineare l'esistenza di questo principio che può essere applicato anche alle relazioni tra gli esseri umani tra di loro ma anche alle relazioni degli esseri umani con tutte le altre forme di vita animali e vegetali significa valorizzare non più la legge del più forte non la competizione ma valorizzare delle pratiche di autoorganizzazione di mutuo appoggio di sostegno reciproco che sono delle basi che potrebbero servirci anche oggi forse per sperimentare dei modi di vita diversi delle nuove forme di socialità si tratta quindi di una visione che in realtà dei risvolti pratici che sarebbe interessante io credo recuperare anche oggi soprattutto in questi tempi in cui necessitiamo di ripensare le nostre forme di vita grazie grazie mille è stata un'esposizione stupenda io ho ricordato mi è venuto quasi le lacrime agli occhi mio nonno classe 1880 tanto per dire che mi parlava sempre di reclus e di Krapotkin io prima di dare la parola a Silvia Pinelli ci tengo che la nostra ospite faccia un intervento breve o lungo che sia non importa il tempo ce l'abbiamo volevo però prima proporvi questa domanda di Guido Montanari che è stato ex vice sindaco di Torino nell'attuale insomma nell'attuale comune insomma ve la leggo e poi scegliete voi oppure rispondete tutte e tre insomma Krapotkin Jedes ed altri hanno una visione della pianificazione urbana sensibile ai contesti ambientali e sociali mi piacerebbe sapere di più della sua visione della città grazie Guido Montanari Torino vedete un po' voi volete che la ripeta perché forse ho parlato troppo in fretta una visione sembrava chiara posso cominciare magari certo grazie su questo tema pianificazione città Krapotkin Pietro Aliexejevis Krapotkin per l'appunto e Patrick Jedes si potrebbe parlare fino a domattina credo che la risposta è senz'altro positiva al discorso di un discorso urbano sensibile allo stesso tempo ai contesti ambientali e sociali cioè nel senso che Patrick Jedes è stato uno degli autori che era appunto questo studioso scozzese a sua volta inserito nel contesto e nella cultura evoluzionista è stato uno degli ispiratori del pensiero della pianificazione organica e pianificazione regionale del ventesimo secolo anche tramite i suoi contatti diretti con Lewis Manford e altri ma la cosa che ci interessa magari sottolineare qui è che è stato un amico di Krapotkin e soprattutto di Elisè Reclue e di diversi componenti della famiglia Reclue che hanno frequentato i suoi meeting a Edimburgo e anche se sì ovviamente ci sono sarebbero varie considerazioni da fare varie differenze che non possiamo adesso credo esaurire in questa in questa sede c'è senz'altro una connessione tra questa idea di pianificazione regionale che considera appunto la città nel quadro regionale esposta dalla famosa metafora di Geddes della Valley Sections cioè la sezione di valle come metafora della storia della regione urbana e quello che è il discorso che fa della decentralizzazione che fa Krapotkin in campi fabbriche officine ma credo soprattutto Reclue negli ultimi due volumi di L'Ome della terra in cui mette in discussione il concetto stesso di distinzione tra urbano e rurale cioè nel senso che da una parte la città anche tramite questa tradizione anarchica che è molto attenta alle libertà comunali dal medioevo come dicevo prima fino alla comune di Parigi quindi insomma siamo in un'epoca in cui la città è il centro un po' dei movimenti sociali il centro della cultura del centro della politica ma la geografia appunto di Reclue Krapotkin è attenta anche all'ambiente a quello che è un discorso che appunto oggi definiremmo ambientalista e quindi sono tra i primi credo almeno in ambito geografico che in qualche modo teorizzano quello che oggi si chiama il periurbano come una possibilità cioè nel senso luoghi in cui in qualche modo uno ha allo stesso tempo i vantaggi della della campagna in senso di salubrità e e quant'altro e anche delle possibilità di sociabilità che dà la città stando a una distanza ragionevole in termini di trasporto pubblico e interazione però ecco questa è una cosa che penso soprattutto io fa anche parte di questo discorso che loro fanno appunto ispirato a filosofi come Schelling e la Naturphilosofie tedesca di effettivamente mettere in discussione quella che è la divisione tra ciò che si considera umano e ciò che si considera naturale quindi anche ciò che si considera città e ciò che si considera campagna insomma si cominciano a mettere in discussione a livello teorico e filosofico queste distinzioni grazie grazie prima di dare la parola a Silvia Pinelli chiedo a Maurizio Galli dall'Ampia di Roma che per gli studenti del Politecnico che seguono le conversazioni in biblioteca metta in chat il link per la firma ecco Silvia Pinelli ti do la parola grazie per essere intervenuta sei un ospite veramente molto molto gradito prego allora intanto vi ringrazio è stato veramente molto interessante ascoltare i vari interventi che si sono sosseguiti ascoltandoli mi è ritornato in mente ciò ripercorso la vita e la storia di mio padre Giuseppe Pinelli finita una vita finita precocemente a 41 anni da schiantandosi nella in un cortile della quest'ora di Milano il pensiero anarchico di Pino viene riassunto poi da tutto quello che sono riuscita a cogliere dai vari interventi Pino diventava divenne anche lui anarchico molto giovane all'incirca dieci anni quando fu il suo primo datore di lavoro a dargli dei libri da leggere sull'anarchia e giovanissimo sempre partecipò alla lotta di liberazione come staffetta partigiana nella brigata anarchica Franco e mio padre era una di quelle persone che cioè il ricordo abbiamo parlato di cartine geografiche e c'è questo ricordo invece che mio padre ci aveva comprato un binoccolo per scurtare il cielo il cielo non ha confini perlomeno i confini non si vedono giovanissimo aveva iniziato a studiare l'esperanza che era una lingua che ormai non si conosce più che era una lingua che avrebbe dovuto abbattere i confini e le diffidenze anche tra le persone tutto questo è stato importante anche per me adesso ascoltare queste cose anche tutto quello che ha raccontato Selva per ricostruire il pensiero di mio padre che non era un non era uno studioso ma amava la cultura e ai ragazzi che si che arrivavano alla ponte della ghisolfa la prima cosa che dava era un libro da leggere e non era necessariamente un libro un libro politico e e poi nell'ultima lettera mio padre non scriveva mio padre era una persona che agiva nell'ultima lettera che scrive alla ponte della ghisolfa prima di regarsi alla Circo dello Scandasole racconta un ragazzo scrive una lettera a un ragazzo che era ingiustamente incarcerato per le bombe che erano scappiate a Milano nell'aprile del 69 ricorda come l'anarchia non sia violenza l'anarchia la rigettiamo ma non vogliamo neanche subirla anarchia è ragionamento e responsabilità e di questo ragionamento e responsabilità ne ho sentito l'ho sentito tante volte nominare ed è quello che in cui credeva mio padre il suo sogno di una di una terra senza confini una terra senza confini è anche la presentazione del di Pino che abbiamo fatto con con Lampi quando abbiamo per il cinquantesimo anniversario della della sua morte io vi lascio continuare e continuo a seguirvi comunque grazie per l'invito e a presto grazie mille Silva mi hai ricordato l'esperanto l'esperanto lo studiavano anche prima mio nonno ripeto di nuovo mio nonno tentò di insegnarmi l'esperanto perché era la lingua del del nuovo mondo era la lingua del nuovo mondo e quando ho sentito non da adesso lo sapevo già da prima che Pino Pinelli studiava l'esperanto io sono tornato indietro di cinquant'anni ho detto allora i rivoluzionari non sono cambiati sono sempre e ho notato che gli anarchici hanno una voglia matta di studiare di documentarsi di darsi da fare hanno moltissimi interessi e poi sono dei non violenti io a questo punto se non non riesco ad avere delle domande perché da Roma non me le hanno mandate darei la parola al nostro Bruno Segre che parlerà credo di Krapotkin perché adesso sono arrivato a casa sua e mi ha fatto vedere tre quattro libri su Krapotkin e quindi come presidente dell'AMPIA di Torino ha il piacere di fare l'intervento di chiusura poi se compariranno delle domande per carità ve le proporrò do la parola a Bruno Segre adesso sposto un attimo al computer ecco puoi parlare sì sì puoi parlare puoi parlare dopo oltre cento anni di storia politica e sociale la figura del russo Piet Krapotkin conserva un carattere del tutto particolare infatti oltre ad appartenere alla prima internazionale e ad essere fautore della partecipazione degli anarchici ai movimenti sindacali si dedicò agli studi geografici e geologici pubblicando ricerche sul periodo glaciale l'orografia dell'Asia l'aiuto reciproco nel mondo degli animali e degli uomini coerentemente al suo concetto di solidarietà fra gli uomini sostenne lo stesso concetto nel mondo degli animali in quanto tali esseri non uccidono gli appartenenti alla loro razza mentre invece Darwin sosteneva che le specie meno affini tra loro sono annientavano vicendevolmente e lo stesso Huxley sosteneva che all'interno della specie solo i più forti e i più astuti sopravvivevano in realtà il moderno metodo di ricerca ha accertato che esistono effettivamente lotte fra individui della stessa specie lotte per il luogo in cui vivere per lotte per il possesso delle femmine ed anche aggressioni senza motivo queste lotte evidenziate dalla moderna cinematografia tra gli orsi le foche i cervi e tanti altri animali vanno in via di massima fino all'umiliazione di uno dei due contendenti che quale segno di cedimento si allontana tranquillamente Krapotkin trae dalla teoria dell'evoluzione di Darwin come da osservazioni sue proprie conclusioni relative alla storia naturale umana egli crede di constatare nell'uomo un interrotto accrescimento dell'impulso verso la libertà Krapotkin dunque interroga la scienza della natura disputando sul materialismo di Darwin sulla connessione fra il mondo degli uomini e il mondo degli animali oggi soltanto le varie chiese si oppongono allo riconoscimento di condizioni biologiche appartenenti al mondo della storia naturale forse un giorno la scienza naturale confermerà la tesi di Krapotkin dell'accrescimento dell'impulso verso la libertà oggi rendiamo omaggio all'ingegno e alla cultura del principe anarchico Piet Krapotkin grazie segre se avete Marco Piras se hai qualche cosa da dire per concludere questo incontro che credo sia stato molto interessante almeno per me e credo che a molti altri pare che ci segua anche la sindaca di Torino mi pare di aver sentito questo e anche l'ex vice sindaco Montanari Saverio ecco allora Saverio io l'ho invitato Saverio Pejar il nostro geografo geografo dell'Ampia di Roma però non vedo la sua immagine ah ecco Saverio prego ho problemi di connessione quindi già prima diciamo ho sentito un po' a scatti vediamo che con la telecamera i problemi peggiorino mi sentite voi? ecco io non vi sento io ti sento penso anche gli altri però disattivo l'audio per non disturbare prego 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 no no ma non volevo diciamo ho trovato molto interessanti gli interventi l'argomento diciamo sia come geografo che come anarchico ho sempre seguito queste diciamo queste questi argomenti queste queste tematiche volevo fare una una domanda una più che altro diciamo non in tema geografico ma proprio sul tema di Krapotkin cosa che cosa ne pensano diciamo le altre i relatori sulla polemica che c'è stata diciamo tra il tardo Krapotkin e Malatesta per la questione dell'interventismo quando Krapotkin si è schierato per la guerra diciamo per l'intesa a favore dell'intervento contro la Germania ha firmato poi il manifesto dei 16 e è stato se non sbaglio accusato da Malatesta insieme agli altri firmatari di essere un anarchico di governo e chi Federico Ferretti non so eh se è la Marenga prego prego eh ti ringrazio di questa domanda perché è un aspetto che ho trascurato nella mia relazione l'ho trascurato sinceramente anche volutamente perché diventava un discorso un po' complesso e lungo però sono contenta di avere l'occasione di parlarne eh Kropotkin appunto nel nel 14 quando scoppia la prima guerra mondiale come ben ricordavi eh contrariamente alla gran parte del movimento anarchico che rimane eh coerentemente antimilitarista e quindi che rifiuta di prendere parte alla guerra come a qualsiasi guerra vista come guerra eh tra gli tra oppressori quindi vista come un fenomeno che non deve riguardare eh le persone singole non deve riguardare il movimento anarchico Kropotkin invece nel 14 decide di schierarsi eh a fianco dell'intesa eh perché lo fa sono varie le questioni eh giustamente ricordavi che entrerà in polemica con Malatesta ma non solo con Malatesta con moltissimi altri che appunto lo accuseranno di posizioni eh filogovernative o comunque lo accuseranno di tradire quello che era l'ideale anarchico eh allora sono diversi gli aspetti che possono secondo me eh a mio parere giustificare in parte questa presa di posizione che io dico Kropotkin che non condivido ci tengo a dirlo chiaramente eh però per cercare di capire il motivo che possono averlo portato questa scelta innanzitutto Kropotkin era già in un periodo molto anziano era molto anziano era molto isolato io ho lavorato parecchio su quel periodo storico della vita di Kropotkin ed era un periodo in cui lui eh era particolarmente isolato sia per questioni eh di salute si muoveva già in una carrozzina quindi non usciva quasi di casa eh sia insomma aveva era un periodo di isolamento quindi gli mancava probabilmente anche un confronto con il resto del movimento in secondo luogo eh aveva profondamente eh a cuore la situazione della sua terra la situazione della Russia eh aveva un grande desiderio di tornare in Russia e questo sicuramente anche rientra un po' tra i suoi aspetti dopodiché eh probabilmente a mio parere ha preso una spista nel senso non riesco politicamente a giustificarla come scelta ecco eh però è vero lui si è schierato a favore dell'intesa eh nonostante in tutti gli anni precedenti avesse sostenuto la necessità di opporsi a ogni tipo eh di guerra avesse sostenuto la necessità di proclamare uno sciopero generale in occasione della proclamazione di una guerra eh però in quel momento lì io penso che sia l'unico momento di non profonda coerenza nel suo pensiero perché sceglie appunto come ben dicevi di schierarsi con l'intesa non è l'unico c'è da dire nel senso che come sappiamo eh anche all'interno del movimento socialista in senso ampio eh sono stati tanti gli interventisti sono stati tanti che hanno deciso di prendere posizione nel conflitto soprattutto nella volontà che Kropotkin esplicita di di andare contro i i poteri centrali i stati centrali e quindi nel timore che eh la vittoria della guerra da parte della Germania via dicendo potesse portare a un maggiore repressione a un maggiore rafforzamento delle autocrazie ed è un potere centrale ancora più forte e quindi lui insieme a qualcun altro può chiedere la verità però si sono schierati a favore del conflitto eh c'è da dire che la gran parte del movimento anarchico invece è rimasta eh strana totalmente al conflitto anticontraria a questa posizione di Kropotkin e tutto ciò è avvenuto con una serie di manifesti anche pubblici che sono stati sottoscritti il manifesto dei sedici appunto che ehm per l'intervento alla guerra è tutta una serie di eh di scritti in particolare di Kropotkin di Malatesta in cui sottolineava come se fosse un profondo errore teorico in questa posizione assunta da Kropotkin e Kropotkin in questa posizione la pagherà a lungo nel senso che rimane isolato dal movimento anarchico per diversi anni eh nonostante fino al suo settantesimo compleanno era appunto considerato come uno dei personaggi di spicco eh avrà questo periodo di cui viene profondamente trascurato in cui romperà delle amicizie anche molto forti con Malatesta con Fabri con una serie di eh personaggi eh con cui era molto legato e dopodiché però eh quando tornerà in Russia quando prenderà una posizione poi nei confronti appunto di quello dei dei fatti russi via dicendo eh man mano riallaccerà prima a livello locale compagni russi e poi anche a livello internazionale tutta una serie di relazioni e riprenderà in pratica riprenderà un po' il filo di quelle che erano le sue relazioni infatti quando in Russia sono diversi che andranno a trovarlo tra cui ad esempio Emma Golma la quale anche lei aveva chiaramente era entrata in conflitto nei confronti della posizione della Russia non so se sono riuscita a darti una spiegazione forse Federico vuole aggiungere qualcosa eh sì aggiungo solo una una piccola cosa sembra una piccola cosa grazie ok comunque sì giusto per ehm aggiungere una piccolissima cosa e sottoscrivendo al cento per cento quanto eh Selva ha detto eh c'è un'interessante interpretazione su questa cosa che viene da un lavoro pubblicato tre o quattro anni fa da Rupkin che è una ricercatrice britannica una monografia su su Kropotkin che insomma tenta un po' di mettere questo questa scelta di Kropotkin e dei firmatari del manifesto dei dei sedici un po' in un passaggio generazionale del movimento anarcho perché erano quasi tutti della eh vecchia guardia che aveva vissuto la la guerra franco-brussiana e avevano ancora un po' questa eh attenzione per il discorso della liberazione nazionale per il discorso eh delle libertà repubblicane in Francia e quindi in qualche modo esprimono ancora quella che era una visione eh risorgimentale se la riferiamo all'Italia o comunque legata al discorso della liberazione nazionale e dell'opposizione agli imperi centrali se la eh riferiamo ad altri paesi che entrava assolutamente in contraddizione con i nuovi principi e le nuove analisi della generazione dei vari malatesta che in questo senso innovano anche eh l'anarchismo appunto introducendo il discorso antimilitarista che poi sarà assolutamente un un leitmotiv ma ecco quello che fa Rutkin è sostanzialmente quello di non giustificare eh ovviamente la eh la scelta di di Kropotkin che appunto fu eh estremamente impopolare nel movimento anarchico e lo è rimasta si parla tuttora dell'errore di Kropotkin tanto per dire ma eh non giustificare eh quantomeno tentare di capire ed inserire in un contesto di quello eh appunto in cui il discorso anche eh della della liberazione nazionale quindi anche un discorso che poi eh Kina definisce anche anticolonialista ha alcuni elementi di coerenza con un po' queste eh la storia di questa generazione ultimissimo punto poi per confermare quanto dice Selva eh riguardo agli ultimissimi anni in cui Kropotkin riannoda ehm vari fili compreso con Emma Goldman con cui peraltro non era nuovo ad avere qualche litigio amichevole insomma perché si conoscevano e qualche volta litigavano anche da un bel po' però se guardiamo eh le annate del giornale Freedom successive alla partenza poi di di Kropotkin per per la Russia vediamo che c'è da una parte eh ovviamente un rivendicare il fatto che la stessa redazione insomma la maggioranza del gruppo di Freedom abbia preso le distanze da questa scelta di di Kropotkin e di pochi altri Varlam Cerkesov e pochi altri ma dall'altra continuano in qualche modo a eh dedicare pagine a Kropotkin ripubblicare alcuni dei suoi scritti quindi insomma fanno anche un discorso tipo sì ci ha divisi questa cosa però non possiamo insomma dimenticare quel che ha fatto con noi per trenta o quarant'anni ecco mi interessava anche portare questo eh questa testimonianza documentaria grazie 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 per le risposte che sono state molto chiare e ci sono altre domande grazie anche da parte mia a questo punto eh non so possiamo concludere io saluto tutti Marco Piras eh Saverio Pechar Federico Ferretti Silvia Pinelli Selva Varengo eh siete stati bravissimi e certamente eh Segre sì sì certamente Silvia eh Silvia Pinelli ripete Segre di eh di anche Segre vi manda anche lui i saluti a tutti eh io volevo dire solo una cosa eh io sono ancora insegnante nonostante l'età in una scuola superiore e ho fatto un paio di anni fa eh ho realizzato un pendolo durante l'inaugurazione l'ho dedicato a Elisi Reclue se volete vederlo andate sulla mia pagina Facebook Boris Bellone ce ne sono solo due di Boris Bellone uno è un ciclista francese e l'altro sono io tra i primi post c'è il pendolo di Foucault realizzato al Colombatto di Torino una scuola superiore un alberghiero e al momento del quando l'ho fatto vedere agli studenti eh l'ho dedicato a Elisi Reclue insomma e siamo sempre nell'ottocento siamo proprio in in quel secolo che ha messo i semi per cambiare il mondo cambiato certamente certe cose non ci piacciono anzi molto però il mondo è cambiato e è in dubbio e l'ottocento è il secolo della differenziazione delle scienze che da solamente matematiche e fisiche principalmente poi certamente c'era anche la discussione della natura no? però le scienze si differenziano proprio nell'ottocento e adesso pare insomma lo dirà Piras perché è molto più è molto più informato di me pare che si tenda di nuovo a rimetterle insieme in una teoria della complessità mi pare che sia che l'idea sia questa però c'era bisogno di differenziarle e l'ottocento soprattutto la seconda metà dell'ottocento ha diviso tutte le scienze ampliandole sviluppandole adesso le rimettiamo insieme nella complessità vero Piras? così assolutamente stiamo cercando sempre più anche di essere multidisciplinari anche di per esempio ingegneria di mettere insieme le conoscenze più tecniche con quelle più socio-umanistiche perché giustamente i problemi anche sono molto più complessi quindi le conoscenze le competenze da mettere in campo sono sicuramente molteplici quindi questa fusione delle scienze è una fusione un punto di vista sicuramente interessante che poi in qualche maniera sono poi ricorsi ricorsi come dicevi tu si sono scisse poi adesso si torna di nuovo a rifonderle quindi però sì assolutamente la tendenza è questa anzi qui ad esempio al Politecnico di Torino a breve si attiveranno proprio dei corsi su questa direzione proprio perché l'idea è quella di dare anche delle competenze socio-umanistiche agli futuri ingegneri proprio per questa cosa che dicevi tu per questo aspetto che dicevi tu prima va bene ci salutiamo va bene tra scienza e anarchia geografia e anarchia scienza